Allora, noi abbiamo pensato di iniziare con la menzione speciale e abbiamo pensato quindi di assegnarla alla numero 4 che vedete qui di Rutigliano Vincenza il titolo dell'opera è... fateci vedere un secondo dove abbiamo messo il titolo dell'opera ci vuole il valletto ci vuole il valletto vabbè, sulla fiducia non contate su di me e quindi la targa non c'è purtroppo la signora Rutigliano non c'è quindi poi la targa provvederemo a consegnarla a recapitarla facciamo il terzo allora della categoria in bianco e nero il terzo classificato è la numero 023 di Annocchiello il titolo è sto allora, non ha dato in realtà non ha indicato un titolo dell'opera quindi mettiti qui fotografiato il presidente numero 002 ho sentito la promessa di Pio Griglio che non c'è l'uomo perché? sì però grazie a tutti grazie a tutti